Ciao, sono Salvatore, titolare di Casa Mia Immobiliare. Oggi voglio darti 5 buoni motivi per affidarti a noi per vendere il tuo mobile. Primo, da noi troverei una consulenza a 360 gradi. Non sarai mai solo, né prima, né durante e né dopo la conferenza. Oltretutto, su richiesta, i nostri notai saranno disponibili per consulenze mirate presso le nostre filiali. Secondo, voglio rassicurarti su una cosa. Con oltre 10 anni di esperienza e 5 punti di vita in territorio, abbiamo acquisito un'ampia banca dati. Pertanto siamo in grado di effettuare visite mirate e non farti perdere tempo. Terzo, ti sarà capitato di vedere immobili pubblicizzati con foto opache e ristrette che non valorizzano al massimo i tuoi mobili. Noi ci affidiamo a un professionista che sarà in grado di presentare Casa Tua nel migliore dei modi. Con video, foto, un servizio dedicato per valorizzare al massimo i tuoi mobili. Quanto, i nostri consulenti non prenderanno Casa Tua in vendita a qualsiasi prezzo oppure riempire una vetrina, ma bensì le valutazioni saranno fatte sulla base di indagini di mercato reale. Il valore del tuo immobile sarà allineato con il valore di mercato attuale, tale a garantirti tempi di vendita rapida. Infine, voglio presentarvi il quinto punto, un'esclusiva Casa Immobiliare. I Gold Pack, una serie di servizi innovativi che renderanno Casa Tua la vera protagonista. Se sei curioso di sapere come potremmo pubblicizzare Casa Tua, viene a trovarci Agenzia.